Stiamo lavorando sul dossier, a dire la verità l'avevamo già terminato, eravamo pronti per presentarlo ma purtroppo a conseguenza della pandemia c'è stato un rinvio e poi un ulteriore rinvio. Adesso non è più capitale a cultura 2021 ma per il 2022 e quindi noi riadatteremo il dossier anche alla luce di quanto è successo perché la cultura è parte integrante anche di questi processi. Per quello che riguarda Fano in questi anni abbiamo investito molto e oggi stiamo vedendo anche i frutti e sono convinto che sarà una chiave di successo per la nostra città anche per il futuro sia in termini di qualità della vita, in termini di crescita ma anche in termini turistici perché sempre più la gente cerca luoghi di qualità che sappiano esprimere, raccontare la propria storia, dare e trasmettere suggestioni e far vivere anche emozioni. Proprio su questo stiamo lavorando, è un dossier partecipato quindi con il contributo di tante intelligenze, di tanti creativi della nostra città. Proprio per questo creiamo anche momenti, occasioni di confronto e uno di questi è proprio mercoledì domani alle 17, ovviamente con gli strumenti tecnologici di questo periodo. Sarà un'occasione per fare il punto della situazione, un'analisi del lavoro svolto fino ad oggi ma soprattutto anche una riflessione sulle integrazioni che vorremmo portare al nostro dossier. Vorrei ricordarlo, questa candidatura oltre a dare lustro alla città è anche una grande occasione per un piano strategico della cultura perché i contenuti saranno in qualche modo la nostra meta, il nostro percorso da perseguire a prescindere da quelli che saranno poi i risultati della candidatura.